Ecco amore, per Sanremo è tutto pronto. Ti ho preparato il taccuino per dare i voti. Tra pochissimo il corriere ci consegna la poltrona con l'appoggia gamba elettrico a scomparsa. Ha telefonato tra due minuti e qui. Ho messo un altro strato di gomma piuma e cartongesso sulle pareti per insonorizzare la stanza. Ho rifatto i punti luci della stanza per crearti l'atmosfera perfetta. Ho installato lo stesso impianto in Dolby Surround che montano sulle maz da turbo con l'assetto ribassato. Il top! Ho smontato la libreria a parete con tutti i miei libri e fumetti così adesso hai uno schermo 5 metri per 3 per il tuo proiettore. Tra poco arrivano anche 16 fioriere con i fiori di Sanremo da mettere da una parte all'altra dello schermo. Vedrai, ti sembrerà di essere lì. Ti ho stirato i vestiti da sera, quello bianco, quello rosso, quello nero, quello con le paillettes dorate che l'ho anche un po' rammendato. Ho invitato anche l'assessore del terzo piano per avere un VIP in casa. Ah non è più assessore? E gli dico che hai il covid, che ho il covid. Chiedo a Sinner se viene a vederla da noi. Gli scrivo. Ho anche calcolato i tempi e quando c'è la pubblicità viene il catering di Masterchef. E poi ho scritto ad Amadeus se viene a fare la finale a casa nostra. Dovrebbe rispondermi a momenti. Eh, sono stato bravo. Poi me la dai?